Green Pass obbligatorio per accedere alla fiera di San Nicola. La decisione del sindaco Matteo Ricci, assunta nell'ottica di tornare ad organizzare gli eventi in sicurezza, divide i cittadini tra chi è d'accordo e chi no. Il Green Pass nonché è il certificato verde di avvenuta vaccinazione, come annunciato ieri il primo cittadino, dovrà essere presentato da tutti coloro che vorranno accedere all'area, ambulanti compresi. Sono contraria naturalmente, anche perché non vedo per quale motivo, tanto i controlli non so se ti fermano, ti bloccano, come fanno a controllarci tutti quanti, quindi io penso che poi la libertà naturalmente è molto importante, tanto non ti possono controllare, non è che ci pregano proprio o hanno la lista di tutti quelli che non sono stati vaccinati. Ci vuole il Green Pass per evitare che il virus si diffonda. Quindi lei è d'accordo con la scelta del sindaco? Certo. Qua la situazione sta peggiorando e allora è meglio cautelarsi prima e proteggere sia i giovani che gli anziani e si vaccinassero anche. Favorevoli, siamo entrambe vaccinate e mi sembra più che giusto, visto che ci saranno tante persone, mi sembra solamente difficile comprendere chi è vaccinato o meno, fare una distinzione, perché tanto l'affluenza sarà tanta. Lei è favorevole o contraria? Guarda, io sembra tutto una boiata, sinceramente, perché come fai a far entrare le persone, no? Cosa stai lì? Apri la cancellata e dici a te sì, te no, fai vedere il foglio, ma non lo so. Non sono molto favorevole, sinceramente. Io favorevole al Green Pass per la fiera, sì, assolutamente. Per quale motivo? Per la sicurezza di tutti e sperando che funzioni e che ci siano i controlli adeguati. Anch'io mi trovo favorevole e anche se sono un po' scettica su come potranno fare i controlli, favorire i controlli necessari da tutte le vie, però assolutamente favorevole anch'io. Secondo lei dovrebbe esserci una libera scelta? Dovrebbe avere un pochino di buonsenso e tutto si risolve, allora non si dovrebbe fare neanche il mercato del martedì, no? Ho sbaglio. Che favorevole, però dove mette la gente a controllare, eh? Che la gente arriva da tutte le parti. Quindi alla fine è contrario? Eh, da una parte sono contrario, sì, la fiera non si fa e basta. Non è che io ce l'ho con i commercianti, anzi, mi dispiace per loro, però al martedì c'è il mercato e lì è un altro mercato, allora. Grazie.